e saccheggiare finché le mie surdole membra cadranno. Siete adorabili? Sì. Io vi chiedo scusa se vi sembrerò addito, ma non posso non parlare. Questa promozione ha posto in chiara evidenza ciò che non ho raggiunto un matrimonio con una bella donna. E voi siete diventata una bella donna, Elisabeth.